Memo Remigi, sparito dalla tv, ecco che fine ha fatto! Memo Remigi, nome iconico della musica e dello spettacolo italiano, ha conquistato il pubblico con il suo talento musicale e il carisma che lo ha reso celebre in tv. Tuttavia, dopo lo scandalo che lo ha travolto lo scorso anno, il suo volto è sparito dai riflettori. Cosa fa oggi questo artista poliedrico? Scopriamo insieme il percorso recente di Remigi, dalla sua carriera ai nuovi impegni lontano dal piccolo schermo. Nato nel 1938, Memo Remigi è stato uno dei protagonisti della scena musicale italiana, soprattutto negli anni 60. Cantautore, compositore e conduttore, Remigi ha partecipato a celebri concorsi come Un Disco per l'estate e Il Festival della Canzone di Liegi, facendosi apprezzare per la sua musica elegante e coinvolgente. Il suo grande successo arriva nel 1965 con la composizione di «Io ti darò di più», presentata al Festival di Sanremo con l'interpretazione di Ornella Vanoni e Orietta Berti. Qualche anno dopo, ritorna a Sanremo con un altro brano indimenticabile, «Dove credi di andare», in collaborazione con Sergio Indrigo. Memo Remigi è stato una figura costante anche in televisione, dove ha contribuito alla popolarità di diversi programmi, tra cui «Oggi è un altro giorno», condotto da Serena Bortone. Ma la sua carriera ha subito un brusco arresto dopo un controverso episodio che lo ha messo al centro dell'attenzione mediatica. Nel 2022, Memo Remigi si è trovato al centro di un episodio che ha scosso il pubblico televisivo. Durante una puntata di «Oggi è un altro giorno», il cantautore è stato protagonista di un gesto inappropriato nei confronti di Jessica Morlacchi, toccandola senza consenso. Questo comportamento ha suscitato indignazione, causando il suo immediato licenziamento dalla RAI e mettendo fine alla sua presenza costante nel programma. Lo stesso Remigi, consapevole della gravità della situazione, ha più volte chiesto scusa pubblicamente a Jessica Morlacchi e a Serena Bortone, ammettendo che il gesto, seppur pensato come uno scherzo, era inappropriato e offensivo. In diverse interviste ha dichiarato, non dovevo farlo, mi scuso ancora con tutti coloro che sono stati offesi o feriti dal mio comportamento. Ho pagato un prezzo alto, ma accetto le conseguenze di quanto successo. La RAI ha rescisso il suo contratto, e Memo ha rivelato di essere venuto a conoscenza del suo licenziamento direttamente in diretta televisiva, ascoltando le parole di Serena Bortone. Nonostante lo scandalo, Memo Remigi non ha abbandonato la sua più grande passione, la musica. Anche se non è più una presenza costante in tv come in passato, Remigi continua a dedicarsi alla composizione e alla sua carriera artistica. Recentemente, è tornato sul piccolo schermo come ospite fisso del programma Bella Ma, condotto da Pierluigi Diaco, dove continua a esprimere la sua arte e a intrattenere il pubblico. Questo episodio ci ricorda quanto sia importante riflettere sul comportamento pubblico e privato delle figure note, specialmente in un'epoca in cui l'attenzione mediatica può amplificare le conseguenze di ogni azione. Cosa ne pensi di questa vicenda? L'arte di un personaggio pubblico dovrebbe essere separata dalle sue azioni personali? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Ciao! 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 Ciao!